Abbiamo avuto delle giornate impegnative anche perché è stata una nevicata che è venuta dal mare, dai Balcani, quindi ha interessato tutto l'asse autostradale che è un asse impegnativo perché noi abbiamo una competenza da cattolica a foggio imperiale e capisce bene che nel tratto diciamo della provincia di Chieti abbiamo 40 chilometri con una pendenza superiore al 4%, quindi abbiamo viadotti che con la neve insomma è stato impegnativo gestirli anche perché poi c'è stato il pericolo ghiaccio, quindi abbiamo dovuto adottare dei provvedimenti in concerto con l'autostrada, con l'ente autostradale di regolazione del traffico pesante, quindi abbiamo dovuto interdire la circolazione a mezzi pesanti per un periodo insomma necessario affinché si ripristinasse poi il manto stradale. Adesso la situazione sulla 14 è regolare, infatti l'ente proprietario ha emesso un codice giallo un nevischio leggero, i mezzi pesanti possono circolare nuovamente in autostrada e ripeto per noi essendo l'ultimo dato di una quota neve che si sta diciamo così alzando per quanto riguarda la nostra autostrada per ora siamo relativamente tranquilli. Quali sono state le maggiori difficoltà che avete incontrato in queste ore? Ma guardi, le dico l'ultima della giornata di ieri abbiamo avuto problemi gestionali in che senso? Abbiamo avuto dei tralicci, dei cavi di alta tensione che si sono abbattuti per cedimenti strutturali dovuti al ghiaccio insomma di questi tralicci in autostrada, quindi bloccando entrambe le carreggiate e è stato quindi impegnativo insomma rimuoverli perché abbiamo dovuto chiudere i tratti autostradali per dirle l'ultimo, quello più importante, un cavo di alta tensione che è caduto ieri tra le stazioni autostradali di Lanciano e Dortona quindi abbiamo dovuto chiudere quel tratto anche ai mezzi leggeri, alle autovetture fin da ieri sera fino alle 9 e mezza di questa mattina Possiamo quantificare quanti uomini, quante pattuglie sono state impegnate? Ma guardi, io le dico che da Cattolica a Foggio Imperiale su 360 km di autostrada abbiamo avuto pattuglie H24, sempre e comunque che hanno gestito tratte, ogni pattuglia consideri che meramente fa un pattugliamento autostrale di 40-50 km eravamo tutti su strada